C'erano io, c'erano io, mandi l'anno di tutto bene. Il luogo di vista, anche dentro, al petto, si chiede. Vieno anche. Va bene, ve lo dico così. Va bene. Ora Cristina se le può mandare. Guarda, posso trasmetterla? Ah, ok, perché se no rischia. Certo, sì, sì, siccome no. Ormai c'è tutto lo staff che ha seguito Luigi Di Piazza.